La Fiera Antiquaria di maggio guadagna un nuovo spazio la piazzetta sotto il Vescovado in cima alle scale mobili, ma perde via dell'orto, riduce i banchi di piazza grande, esclude definitivamente via bicchieraia dall'antiquariato e apre a nuovi settori commerciali. È la svolta ormai definitiva decisa dal comune di Arezzo. Per ora il percorso è sperimentale da giugno ad agosto ma con l'intenzione di renderlo definitivo. Intanto è possibile ancora visitare nella sede del Fotoclub La Chimera la mostra fotografica di Piero Franchini e Aldo Luttini dal titolo Luci ed ombre sul ponte della Gioconda, una mostra che racconta appunto la storia, il restauro e anche il degrado del bellissimo Ponte Buriano. Soprattutto il degrado, perché io la... sì no, questa è una mostra denuncia appunto perché voglio denunciare il degrado in cui si trova questo ponte, quindi che è finita, va restaurato, va restaurato e poi limitato al traffico pesante. Agli espositori della Fiera di Maggio verrà presto annunciato anche il programma per festeggiare i 50 anni della manifestazione, un programma che riporterà davvero le lancette dell'orologio al mitico 1968. Tutto in città parlerà di questi anni, non è escluso anche l'arrivo dei nomadi, dei New Trolls e perfino di Dombaki.